Signor Presidente della Repubblica, signori Ministri, Presidenti della Regione, abbassiamo un po' autorità civili, militari, sportive, signore e signori presenti tutti, atlete e atleti, oggi è una giornata davvero importante per il mondo dello sport ed è una giornata davvero importante per Roma e per l'Italia. Con l'inaugurazione di questa splendida struttura, non solo la nostra città, ma l'intero Paese si dota di un complesso sportivo eccezionale. Finalmente, infatti, con l'inaugurazione della cittadella dello sport, si realizza un progetto innovativo e futuristico. Futuristico perché, come abbiamo detto, ancora non è la norma vedere questo, lo deve diventare. Sono molto orgogliosa perché finalmente prende vita un sogno, lo abbiamo detto in tanti. Questo impianto sportivo all'avanguardia rappresenta un importante punto di riferimento in ambito nazionale ed è la prova che Roma e l'Italia sanno primeggiare. Lo sport insegna a superare le barriere, insegna il valore del sacrificio, insegna che con la costanza e l'impegno è possibile tagliare qualsiasi traguardo. Lo sport insegna che con il lavoro di squadra si raggiungono obiettivi impensabili. Voglio sottolineare che la realizzazione di questa struttura è il frutto dell'impegno e della dedizione di tanti rappresentanti delle istituzioni. È il frutto di un lavoro di squadra che ha permesso di sbloccare un processo o una storia ferma da anni, da troppi anni. La soluzione che ha portato alla realizzazione della cittadella dello sport è un modello di collaborazione interistituzionale e anche di questo dobbiamo tutti essere orgogliosi. Con dedizione, serietà, impegno e costanza abbiamo dimostrato che risultati troppo a lungo attesi si possono raggiungere e soprattutto che tutto questo può avvenire se ci si impegna anche con rapidità. Lo ripeto, noi sappiamo primeggiare, dobbiamo solamente dimostrarlo al mondo. Abbiamo dato una risposta concreta a quella che definirei una vera e propria battaglia condotta senza sosta dal Comitato Paralimpico, a cui va tutto il mio apprezzamento, davvero, affinché questo spazio fosse riconsegnato allo sport. Da questo pomeriggio la cittadella dello sport diviene una straordinaria realtà sportiva dove potranno allenarsi anche i nostri atleti paralimpici e persone con disabilità, in maniera inclusiva, peraltro. La cittadella è soprattutto uno spazio dove si dà ad atleti l'opportunità di allenarsi. Tra l'altro abbiamo visto anche atleti di età differenti e quindi questo ci deve rendere ulteriormente orgogliosi perché riusciamo a includere anche i bambini. Lo sport, lo dimostrano loro tutti i giorni, è gioia. E penso al sorriso di Bebevio, penso alla gioia di Alex Zanardi e di tanti altri campioni che portano lo sport anche paralimpico italiano nel mondo. E tutti gli sportivi sanno quanto ogni vittoria possa regalare energia e forza. esattamente quello che noi stiamo facendo oggi con l'inaugurazione di questa cittadella. Penso a quanti campioni nasceranno in questi campi, penso a quante persone da tutta Italia potranno allenarsi e potranno realizzare i propri sogni sportivi e di vita. Ed è con questa gioia che ringrazio ancora tutti coloro che si sono spesi per la nascita della cittadella dello sport del Comitato Italiano Paralimpico qui a Roma. È un traguardo importantissimo per la nostra città, per il Paese e per lo sport. Grazie a tutti.